buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica amarillis buongiorno amici ascoltatori di questa rubrica astrologica buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e oggi è giovedì 11 novembre ebbene cosa succede oggi la luna è ancora nell'acquario e alle 13 46 si forma il primo quarto quindi questo significa che sole e luna sono in aspetto di quadratura che è sempre un pochino un blocco anche se questa fase della luna indica che rispetto alle intenzioni che abbiamo messo nel nostro novilunio ovvero all'inizio delle mese lunare ebbene queste intenzioni vanno soprattutto messe in pratica bisogna adattarsi e agire quindi non fossilizzarsi su atteggiamenti preconcetti ma cercare di adattarsi questo dell'adattamento è un atteggiamento molto in linea con la luna in acquario e l'acquario è un segno che si adatta è un segno pragmatico è un segno che nonostante sia un segno d'aria quindi vola con la mente fa voli pindarici mentali però è anche pragmatico è un pochino opportunista forse questa luna è una luna adatta alla comunicazione al creare le gammi di amicizia all'allargare la cerchia delle persone che frequentiamo che potrebbero anche risultare utili per il lavoro per le nostre attività i nostri progetti poco dopo il primo quarto ovvero questa quadratura tra il sole e la luna la luna si avvicina sempre di più a giove e formerà quindi nel tardo pomeriggio in serata questa congiunzione con giove che è sempre un momento di espansione di apertura di ottimismo di apertura delle nostre emozioni di apertura del cuore nella notte intorno alle due di notte la luna ha fatto anche questa quadratura con urano quindi chi di voi è un po' un animale notturno ed era in giro potrebbe aver risentito di un certo nervosismo di una certa tensione soprattutto se ha aspetti se ha pianeti nei segni del toro dello scorpione dell'acquario o del leone ma la maggior parte di noi probabilmente dormiva in quel momento quindi forse siccome la luna rappresenta anche l'attività onirica i sogni potremmo aver avuto dei sogni un po' agitati un po' di attività eccessiva frenetica e quindi qualcuno di noi potrebbe essersi svegliato già un po' stanco questa mattina tuttavia appunto con la congiunzione luna giove nel corso della giornata le cose si fanno un pochino più serene più rilassate allora vediamo cosa porta questa luna agli ascendenti e quindi come si comporta nelle diverse case allora questa luna in acquario con l'ascendente ariete si trova nell'undicesima casa e quindi ha a che fare soprattutto con amicizie contatti attività riguardanti associazioni attività filantropiche rivolte diciamo alla società in senso più ampio per l'ascendente toro la luna in acquario si trova in decima casa e quindi l'attenzione cade tutta sulla carriera sulla sul lavoro sul diventare il più possibile indipendenti e siccome si parla del toro che è un segno molto concreto questa indipendenza passerà probabilmente dall'indipendenza economica l'ascendente in gemelli con la luna in acquario la luna in acquario qui si troverà probabilmente nella nona casa che ciò che riguarda il lontano quindi potrebbero esserci contatti con persone straniere o progetti riguardanti viaggi oppure un corso di formazione un'educazione superiore quindi queste attività sono tutte molto favorite da questa luna per gli ascendenti gemelli con l'ascendente in cancro la luna in acquario in ottava casa e quindi qui abbiamo a che fare con tutti i soldi non guadagnati personalmente quindi potrebbero essere eredità tasse tasse da pagare mutui insomma banche prestiti eccetera quindi gli ascendenti cancro potrebbero ritrovarsi impegnati in attività di questo genere a meno che non sia invece una giornata dedicata al sesso perché anche l'ottava casa è anche collegata alla sessualità l'ascendente leone vede la luna in acquario in settima casa e quindi qui ci sarà un'attenzione sugli altri o meglio sull'altro con la maiuscola quindi sul compagno coniuge e qui potrebbero esserci anche delle discussioni dei conflitti attenzione quindi ascendenti leoni a sfruttare meglio questa luna in acquario sfruttandone il lato socievole e quindi la comunicazione più aperta che potrebbe creare l'ascendente vergine vede la luna in acquario nella sesta casa e quindi qui abbiamo a che fare con lavoro con le attività quotidiane con le abitudini con i piccoli riti della vita di tutti i giorni e potremmo anche rivedere delle abitudini collegate alla salute quindi rinnovare rivedere introdurre qualcosa di più sano come abitudine quotidiana ascendente bilancia con l'ascendente bilancia luna in acquario cade nella quinta casa che è la casa del gioco della sessualità dell'amore dei figli dell'educazione dei figli e dei bambini e quindi tutte queste attività tutti questi ambiti possono essere una buona un buon modo di sfruttare questa luna in acquario per gli ascendenti bilancia l'ascendente in scorpione vede la luna in acquario cadere nella quarta casa che è la casa della famiglia della famiglia d'origine dell'abitazione quindi qua può essere ben speso il tempo con i propri familiari dedicando del tempo di qualità ai propri genitori o anche insomma la famiglia allargata o magari anche a mettere a posto casa abbellirla in qualche modo con l'ascendente sagittario la luna in acquario in terza casa e qui la terza casa riguarda gli spostamenti brevi magari piccoli viaggi nelle vicinanze magari per andare a trovare delle persone o comunque per interessarsi delle cose di questo mondo quindi anche per aggiornarsi è una luna molto adatta per aggiornarsi su cose di cui si ha bisogno essere informati con la l'ascendente capricorno la luna in acquario cade invece in seconda casa e questa è la casa della delle finanze di ciò che guadagniamo e l'ascendente capricorno è già molto orientato ad avere le idee chiare a questo riguardo e quindi qua ci sarà una messa a punto delle proprie finanze dei propri conti ma anche può essere ben utilizzata questa luna anche riguardante la propria immagine quindi migliorare la propria immagine quindi magari andare dal parrucchiere o dall'estetista cose di questo genere l'ascendente in acquario vede la luna in acquario nella prima casa sempre probabilmente perché bisogna sapere bisogna conoscere con più precisione il proprio tema natale quindi dove cadono le varie case l'ascendente eccetera perché ovviamente un segno è fatto di 30 gradi quindi l'ascendente potrebbe cadere all'inizio del segno o alla fine del segno o a metà ovviamente e quindi non è detto che la luna in acquario per un ascendente in acquario sia in prima casa ma potrebbe essere anche in dodicesima o magari in seconda casa ecco qui bisogna conoscere perfettamente il proprio tema natale per questo vi ripeto che ci sono molti siti che potete trovare online che vi calcolano immediatamente voi inserite il vostro giorno la di nascita l'orario e il luogo e vi calcolano il tema natale quindi dove dove ci sono le varie case dove cadono i pianeti in che casa in che segno eccetera eccetera uno dei più usati più famosi è www.astro.com e lì potete tranquillamente appunto calcolare il vostro tema natale tornando all'ascendente acquario la luna in acquario probabilmente cade nella prima casa e qui l'accento cade tutto sull'io sulla propria personalità il momento di rivedere delle cose di sé magari fare un piccolo esame di coscienza e capire qual è il proprio impatto sugli altri ma anche su noi stessi quindi provare a capire che cosa si può migliorare di sé con l'ascendente pesci la luna in acquario cade nella dodicesima casa la casa del mistero dell'ignoto del trascendente e qui è un ottimo momento per mettersi in contatto con la parte interiore di sé e fare appello al proprio intuito per capire come muoversi nei prossimi giorni nei prossimi tempi e questo i pesci sono molto bravi nel fare questa cosa abbiamo disposizione ancora alcuni minuti cerchiamo di parlare a proposito di ascendenti della combinazione scorpione ascendente bilancia abbiamo analizzato gli ascendenti dalla riete alla vergine nei giorni scorsi e oggi parliamo dello scorpione ascendente bilancia allora lo scorpione è uno dei segni più maschili perché è governato dai pianeti maschili marte plutone mercurio e la bilancia è uno dei segni più femminili infatti governato da venere x ed è anche da saturno che diciamo saturno è può essere un pianeta sia maschile che femminile ma non entriamo nei dettagli tecnici vediamo un pochino come questo ascendente si può comportare da un lato allora la bilancia è un po schizzinosa schifiltosa invece lo scorpione no assolutamente quindi qui abbiamo degli atteggiamenti piuttosto diversi differenti ma sicuramente nella combinazione si si orienta questo individuo verso la perfezione la ricerca della perfezione cerca l'armonia ma difficilmente riesce a raggiungerla e ha una serenità apparente ma non è proprio così poi in realtà c'è questa complessità scorpione che impedisce di arrivare a quell'equilibrio a cui mira l'ascendente bilancia l'amore diventa spesso uno dei motivi conduttori dell'esistenza di questo individuo e viene vissuto con slancio ma nonostante i suoi sforzi lo scorpione scendente bilancia oscilla tra un'aspirazione verso l'assoluto e un bisogno di concretezza quindi c'è sempre quest'altalena ovviamente la sessualità diventa molto importante per questo individuo e se nel tempo riesce a risolvere il conflitto tra questa aspirazione verso una perfezione verso un'armonia verso un ideale e poi invece tutte le complessità e io diciamo la conflittualità che può esistere anche nello scorpione ebbene può diventare una persona saggia molto saggia altrimenti se non riesce ad arrivare a questa sintesi tra un sole in scorpione un'ascendente bilancia che cerca appunto un ideale quasi mai raggiungibile ebbene questo individuo potrebbe essere sempre un pochino insoddisfatto ma speriamo diciamo che con l'età col passare degli anni spesso anche il sole l'ascendente che non non sono proprio armoniosi di solito si trova il modo per convivere per riuscire a sfruttare al meglio sia il sole che vi ricordo è la base l'essenza della personalità e l'ascendente che è una personalità più apparente più esteriore è il nostro biglietto da visicata quando incontriamo gli altri ma in realtà è un po' un abito che noi indossiamo non è la nostra vera identità che rimane sempre il sole se ovviamente volete saperne di più sul vostro tema natale potete contattare un astrologo anche me trovate i miei riferimenti qui tra poco e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'e-mail info chiocciola monicaamarillis.com www.monicaamarillis.com